E' stata inaugurata dall'arcivescovo Monsignor Calogero Lapiana l'ottava mostra di arte presepiale accolta nei chiostri dell'arcivescovado di Messina in via Primo Settembre. 50 opere per la maggior parte inedite, divise in tre settori, presepi, diorami e sculture, realizzate dai soci dell'Associazione Amici del Presepe e da altri presepisti italiani, molti della nostra provincia. Un percorso all'insegna della natività, guidato da iconografie che descrivono la storia del presepe, le origini e la sua evoluzione, soprattutto in regioni come la Campania, dove questa tradizione si è radicata e diffusa. La genuinità e anche la semplicità e la bellezza dei prodotti di casa. Sono gioie semplici, piccole, che vanno molto apprezzate. E dunque ritrovarsi insieme a godere delle piccole cose, ma delle nostre cose, sempre un momento di grande gioia, di grande bellezza per tutti. Tanti pezzi in mostra, tanti artisti coinvolti, insomma per la città è un'occasione importante. Sì, questa grazie all'Associazione del Presepe. Ogni anno godiamo di un'arte, che è quella professionalità, grande capacità artistiche, la varietà, la diversità, anche la complessità direi con cui vengono creati questi presepi è veramente lodevole e apprezzabile. La mostra resterà aperta al pubblico fino al prossimo 6 gennaio, visitabile tutti i giorni con ingresso gratuito dalle 16.30 alle 20.30. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la Curia Arcivesco Vile ed è inserita nel programma di Arte, Fede e Musica a Vento Natale 2013, con il contributo della Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana, l'allestimento dell'ente teatro e il patrocinio gratuito del Comune di Messina.